Ronaldo, Canelo, Lebron hanno tutti una cosa in comune, ognuno di loro ha un coach ed anche io ne ho uno che mi ha permesso di migliorare tantissimo nel corso del tempo a 22 anni infatti ho raggiunto la sicurezza che volevo, guadagnato il mio primo milione di euro rappresentato il mio paese in competizioni sportive internazionali e creato la mia prima azienda nel settore fitness con un unico fine, aiutare i ragazzi a sbloccare il loro vero potenziale sicuramente non sono Cristiano Ronaldo ma qualche successo l'ho ottenuto dai e oggi voglio condividere con voi una lezione che ho imparato nel corso della vita e cioè che ognuno di noi ha bisogno di un coach non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista del mindset perché l'occhio esterno non sarà mai come l'occhio interno il mio compito è quello di spingere Matteo sempre oltre i suoi limiti cercando di ottenere il massimo dal suo corpo e dalla sua mente e non è un caso che abbia scelto Max come coach MS Fitness perché rispecchia a pieno la mia idea di fitness corpo estetico oltre che funzionale infatti Max tu hai fatto il pugile sì ho fatto tre incontri da ovviamente non da professionista ma da principiante e ho avuto la fortuna di allenarmi con i nazionali italiani per molti anni di pugilato e di pugilato e ho fatto gare di nuoto e ho preparato e abbiamo vinto gli italiani con due atleti nel categoria master di nuoto 100 metri e 50 metri iniziamo l'allenamento oggi cosa alleniamo? oggi alleniamo le braccia pronti? iniziamo dai isometria isometria tutte? scendi un po' di isometria negativa molli parti tu ok questo è un po' di isometria adesso qui un'esecuzione leggermente più veloce quindi ok pumping crash sono molto in contrazione due due tutto questo l'allenamento fisico è solo una delle due facce della medaglia e te lo dice uno che ha usato l'allenamento per venire fuori dalla depressione che ha usato l'allenamento come valvola di sfogo per i problemi che aveva e che ha capito che la mente è il muscolo più forte e più prezioso che puoi allenare in palestra comunque il coach ragazzi ha 50 anni uno e dico via adesso andiamo in isometria da lontano quindi si parte così un buon carico e si sta in isometria 9 8 7 2 no 1 si fa un passo e si resta 10 9 così cambia angolazione cambia l'angolazione e il focus sul bicipite provandolo lo sentirete cambio ancora adesso quasi sopra 3 2 1 scala 30 finisce facendo pumping 4 3 5 5 6 4 4 5 6 6 7 7 7 dai connessione mente muscolo il modo per far crescere i muscoli non importa solo il carico non importa la connessione mente muscolo quello che è riuscito a spremere dal bicipite questo è fondamentale e in Matteo si vede benissimo lo vedete come è spremuto il bicipite quello è il segreto uno dei segreti dei campioni non sono le bombe è questo 2 3 4 5 6 7 5 6 7 alla quinta sesta ripetizione cambia velocità facciamo negativa lenta controllata scontrollatissima ok discesa un millimetro al secondo proprio e poi bam se quando si usa una velocità diversa di esecuzione è praticamente provato che si usano anche tipi di fibre diverse si attivano vari tipi di fibre cambiate la velocità di esecuzione il peso ma anche la velocità di esecuzione alcune volte qualche volta lento e controllato qualche volta esplosivo non è importante il numero delle serie è importante lo stimolo basta una serie sola se volete andatevi a leggere c'è scritto su internet la storia di Menzer Menzer faceva una serie solo per gruppo muscolare ogni 15 giorni vabbè è una cosa estrema però andatevi a vedere le foto e capirete la sua filosofia non contano le serie che fate conta lo stimolo se voi riuscite a esaurire un muscolo con una serie sola portata al limite al cedimento oltre il cedimento morti e feriti vedrete stile Tom Plus stile Tom Plus perché poi stile Tom Plus perché poi il resto è solo recupero il corpo non cresce qui cresce a casa quando mangiate bene e quella è un'altra cosa importantissima e quando vi riposate lì crescono le fibre e i muscoli e le fibre ovviamente tutto qua I'm hopping now now I gotta go I'm looking back they not even close I had a four now I need a ghost I gotta wave like I'm on the coast same ones to doubt an idea of the show so way that I'm balling they think I'm a pro I'm getting sick by the money I gross they saying whoa I told them all what this is I told them all I don't miss and it's my time look at this shit on my wrist and when they shooting this brace I'm going in in a new gig I gotta shift I cannot stick to the script I cannot wait watch how I get it and flip it's just how I'm doing this shit and I'm gone just how I'm doing this shit and I'm gone ayy just how I'm doing this shit and I'm gone Allora raga siamo con Federico Federico? il modo in cui esponi il fatto della palestra come migliore al mindset in generale come impari a affrontare diciamo le difficoltà continuando insomma ogni giorno a fare meglio Edoardo tu pensavi che fosse la stessa domanda non te la faccio tu giustamente hai già pensato la risposta ti faccio un'altra domanda ti faccio un'altra domanda che gli chiediamo? che gli chiediamo Edoardo? gli chiediamo a cosa serve la creatina? no no Edoardo facciamo così che cos'è che dico di solito alla fine del video? vediamo se stai preparando oddio che cos'è? che cos'è che si dice alla fine del video YouTube? dillo ai follower dillo ai follower dillo ai like immagino perché sennò sono? non so gay secchi bravo bravo non che abbiamo qualcosa contro i gay ma soltanto perché sennò poi mi dicono che faccio sexual perché sono? secchi quindi devono mettere like e poi che devono fare? beh penso iscriversi al canale raga grazie per aver visto il video e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao